Free point game del tredicesimo round di Eurolega con l'Olimpia Milano che strappa il quarto referto giallo consecutivo perdendo in maniera rovinosa a casa del partizan Belgrado in un match che è lo specchio di tutta la stagione dell'Olimpia lo specchio di questa squadra il primo punto è 37-7 ovvero il parziale che l'Olimpia ha subito dopo che per 25 minuti ha messo in un angolo perché gli ha messo in un angolo il partizan Belgrado e l'Olimpia gioca i primi 25 minuti da Olimpia Milano vera Olimpia Milano forse i migliori 25 minuti di tutto l'anno difesa perfetta attacco del partizan mai innescato soffocati ogni tentativo di accensione del superattacco di Obradici soffocati in attacco la palla si muove bene tiri rapidi, convinti ricezione e palleggio nel suo tiro senza star lì duemila giramenti di pallone fuori palla dentro e forse tutte le varie e il più 15 era stra-meritato però alla fine i limiti sono quelli Schiltz è spento non ha i portatori di palla Feutman lascia stare perché è iniziato Feutman impazzito di là hanno preso quei due o tre possessi consecutivi e di là sono una macchina da canestri contando anche il fattore campo 37-7 il parziale dal più 15 Milano 21-6 21-8 il parziale del quarto periodo Milano ha segnato 25 punti nel primo quarto 25 al secondo tempo il secondo punto si chiama esterni nell'Eurolega di oggi ma nella palla a canestro vincono gli esterni tu devi avere un pacchetto esterni play, guardie e ali soprattutto play e guardie di prima fascia il Monaco il Maccabi il Partizan l'Efes quando ha vinto l'Eurolega lo stesso Panathinaikos che comunque è un po' una cozzaglia e Milano ha scelto di andare con i lunghi Milano ha scelto di andare con i lunghi in un'Eurolega dove vincono gli esterni e sapete qual è la cosa che fa più male? chi è la miglior guardia attiratrice della tutta l'Eurolega? Kevin Panther e dove giocava Kevin Panther prima di andare al Partizan Belgrado? è questo il più grande peccato originale di Ettore Messina non le scelte quello è il più grande peccato è la miglior guardia dell'Eurolega che stasera nel secondo tempo ti ha incartato Kevin Panther signori e di là tu non hai esterni hai il solo Shields l'Eurolega oggi va in una via Milano data nell'altra terzo punto lo faccio molto velocemente si chiama Countdown è sensazione di tutti che la Virtus Bologna domenica al forum possa metterla pietra tombale su l'avventura di Coach Messina alla guida dell'Olimpia Milano bisogna solo capire cosa succederà dopo abbiamo due sere fa col Guazza e Maggi abbiamo parlato fino a luna di note non siamo arrivati alla nostra conclusione ci sono troppe variavi troppe incognite ma il sentimento comune degli addetti ai lavori amici e di voi è che domenica Banchi chiude l'avventura di Messina Milano la squadra l'ha persa queste due sconfitte qua fanno malissimo e sono lo specchio di un errore di progettualità della squadra poi vedremo cosa succederà comunque Milano precipita 4-9 in Eurolega 4 sconfitte consecutive e tanto oblio nel futuro bianco-rosso ciao